Ciao a tutti! Ciao! Qui è Federica Pizzichini, Diamond, Black Diamond Snap. Allora, voglio iniziare una serie di videoformazioni dal giorno in cui una persona entra a far parte del business di Snap a come fare nuovi incaricati. Ok? Allora, sto facendo un video direttamente su YouTube, quindi non farò tagli, non farò niente. Prendetela così come viene. Io purtroppo ho i miei problemi e quindi non so articolare bene le parole, appunto. Mi impappino e ho un po' di difficoltà di memoria. Questa è la mia mascotte, Dory, perché io mi ritengo molto come Dory. Ho una memoria a breve termine molto molto ristretta, però mi ritengo un po' come Dory e un po' come Harry Potter. Quindi credo tantissimo nella magia. E questo business personalmente mi dà ogni giorno dimostrazione che abbiamo poteri straordinari. specialmente noi donne. Da dove voglio partire? Ok? Mi voglio rivolgere in questo video a una persona che oggi entra a far parte del team. Quindi oggi inizia la sua scalata al successo. Ok? Allora, per prima cosa, lascia che ti dica una cosa. Per fare questo lavoro non dovrai mai indossare nessun camice. Non dovrai mai essere un'esperta, conoscere a memoria gli ingredienti, la composizione di ogni singolo prodotto. Io non l'ho mai fatto. Non li so. Io conosco benissimo 4-5 prodotti che sono quelli che ho sempre usato per me. E che mi hanno dato portato giovamento. Quindi che cosa succede? Che quando io parlo di quei prodotti ho un entusiasmo diverso da quello che può avere una persona che prende una scheda tecnica, impara i termini a memoria perfetta, ma arrivi in maniera diversa alle persone. Quindi il consiglio numero 1 è non a caso con il kit hai ricevuto 4 prodotti. Usali! Prima di fare qualsiasi altra cosa usa quei prodotti. Innamoratene! E inizia a costruire oggi stesso la tua storia legata al prodotto. Perché non è, e questo lo ripeto sempre, chi mi ascolta sempre ne avrà anche a nausea, ma non fa niente. Io continuerò a ripeterlo sempre. Non è, non conta ciò che dici, ma come lo dici. Quindi prima di tutto ci vuole entusiasmo. Senza entusiasmo, se non imparate ad avere i prodotti qui nel vostro cuore, farete sempre tanta fatica poi a proporli. Se voi non ve ne innamorate, non potete sperare che le persone a cui vendete il prodotto se ne innamorino. Quindi qui e qui. Questo è importantissimo. E' vero, uno entra a far parte di un business, di questo business, perché ha bisogno di guadagnare benissimo. Ma questo è un lavoro di passaparola. Ok? Semplifichiamolo. Non hai mai fatto network marketing. Hai preso un kit e ti ritrovi scaramentata in questo grandissimo progetto. Va bene? Allora, tu considera che noi facciamo network marketing da sempre, da sempre. Pensa a quante volte sei andata a mangiare in un ristorante, hai mangiato benissimo, il cibo è buono, il servizio è ottimo, hai speso il giusto. Quindi sono stati anche corretti nei prezzi. Insomma, ti reputi un cliente soddisfatto di quel ristorante. Che cos'hai fatto dal giorno dopo in cui hai mangiato in quel posto? Hai iniziato a parlare bene di quel ristorante. Ma già dal momento stesso in cui stavi mangiando, avrai sicuramente iniziato a fare le foto ai piatti che ti portavano e a pubblicarli su Instagram o su Facebook. Quindi già hai fatto pubblicità ai prodotti di quei ristoranti sui social network. Il giorno dopo ti sei trovata a parlare magari con le amiche al bar e hai raccontato loro di come hai mangiato bene in quel ristorante, di come sono stati gentili, di come il proprietario era gentile, di come il servizio era ottimo e di come hai anche pagato bene rispetto a come vi hai mangiato. E pur non sapendolo, magari non rendendote ne conto, in quel momento tu hai fatto pubblicità a quel ristorante. Quelle persone magari l'indomani o la settimana successiva devono andare a mangiare fuori, si ricordano del tuo feedback positivo su quel locale e a loro volta ci sono andati a mangiare. Hanno ricevuto lo stesso trattamento, si sono trovate bene, hanno mangiato bene e a loro volta ne hanno parlato con altre persone le cui sono andate e hanno creato una rete, dal tuo passaparola è nata una rete nuova di clienti a quel ristorante. Wow, tutto bello, tutto ottimo, ma tu per aver generato questo interesse verso quel posto non hai guadagnato nisba, ok? Quindi il network marketing è soltanto questo invece, guadagnare sul tuo passaparola. Ma non è qualcosa che tu non hai fatto mai, ma lo facciamo sempre, da quando siamo nate, è gratis, ok? L'unica differenza è che da oggi in poi verrai retribuita. Altra cosa importante, io non faccio altro che ripeterlo a tutti. Non bisogna vendere questa opportunità come un qualcosa di facile dai guadagni immediati, perché non è così. Questo è un lavoro, è un benedetto lavoro, non è un passatempo, non è un hobby, è un lavoro. E come tale richiede tempo, richiede sacrificio, richiede studio e richiede anche un investimento. Perché l'investimento che tu hai appena fatto per acquistare il kit è solo il primo. Perché tu da questo momento sei imprenditore di te stesso. E' come se tu avessi aperto oggi il tuo negozio, il tuo negozio in franchising. Hai aperto il tuo Yamamai, ok? Che fai? Non lo riempi? Non tieni dei prodotti in vetrina? Non fai pubblicità? Non fai volantinaggio? Non crei un'inaugurazione? Lo farai. Qui è la stessa cosa. Puoi fare la tua inaugurazione a casa. Invitare i tuoi amici, le tue amiche, i tuoi parenti anche. E organizzare un party dove farai assaggiare e conoscere i nostri prodotti. Tra l'altro sono anche ottimi, quindi le persone gradiscono anche. Devi fare pubblicità. Quindi magari prenderti delle brochure sul sito, ce ne sono tantissimi, cataloghi. E iniziare a lasciarli un po' in giro. La pubblicità sui social network, anche quella non va sottovalutata. È importantissima. Siamo imprenditori, quindi dobbiamo arrivare da potenziali clienti. Ci devono conoscere. Non possiamo pretendere che siano gli altri a venire a bussarci a casa. Un giorno succederà, fidatevi, un giorno succederà. Ma non subito. Questo è un lavoro di cui le persone... Le persone non mi viene il termine. Comunque, magari più ambiziose, più con quella fame, come la chiamo io, la fame che ho sempre avuto io, di arrivare, di far vedere, di dimostrarmi finalmente di che pasta ero fatta, che ce la potevo fare, nonostante sono cresciuta con le voci che mi dicevano non sei fare un cazzo, non sei buona niente, partendo da scuola, partendo dai professori, i miei genitori. Vabbè, non continuo perché sennò mi commuovo ripensando a queste cose. Però ci sono persone che hanno questo bisogno di sentirsi gratificati e si buttano tutti su questo lavoro proprio con un entusiasmo che magari la maggior parte delle persone tende, no? Entra un po' più in punta di piedi perché magari non sa come muoversi, no? Invece ci sono persone che entrano e si lanciano senza paracatute, sbagliano, ma fanno talmente tante cose che anche se compiono qualche sbaglio non fa niente perché i risultati arrivano lo stesso, ok? Ma dovete considerare che se siete persone magari che state facendo anche un altro lavoro perché non è che uno inizia a fare network marketing, ha già un lavoro e uno dice devi mollare tutto perché devi fare questo, no? Quindi li dedicherete magari un paio d'ore al giorno. Quindi non potete pensare che già dal primo mese inizierete a guadagnare 1000-2000 euro perché non è così. Quindi se noi facciamo credere alle persone che come iniziano faranno dei guadagni stratosferici dopo il primo mese, che non sarà così, ripeto, le persone mollano, mollano, ok? Perché diranno mi hai detto un sacco di cacchiate, non è vero che nel network si guadagna benissimo, mi hai detto un sacco di palle e andrà in giro ad alimentare le chiacchiere, le dicerie che il network marketing è tutta una fregatura, in realtà non è così. Concedetevi, dovete sapere che voi state investendo sul vostro futuro e che per un periodo che va da 1 a 5 anni voi veramente avete le carte oggi che avete questo kit di cambiare la vostra vita da così a così. e ve lo dice una che è partita da zero, che ha iniziato questa attività con la speranza di avere 300-500 euro al mese per non dover andare a limusinare a un marito. Non vi sto a dire che genere di marito, che mi faceva pesare anche i 10 euro che gli andavo a chiedere, ok? Poi, avevo questo gol iniziale, quindi piccino, quando uno poi arriva a quel gol e dice ma cacchio, alla fine non è stata neanche poi così difficile come pensavo, allora aumenti e dice beh, allora adesso il gradino successivo voglio arrivare a 1000, no? arrivi a 1000 e aumenti sempre fino a che veramente ragazze, se vi impegnate, se avete costanza, determinazione e se considerate questo un lavoro come tale è, io vi garantisco che la vostra vita cambierà completamente ma dovete essere disposte al sacrificio, questa opportunità è per tutti, ma non è per tutti, ok? è per tutti, ma non è per tutti, è per tutte quelle persone che sono disposte a mettersi in gioco e a sacrificare anche magari del tempo libero, a sacrificare i momenti in cui magari stai su Facebook a giocare a Candy Crush bisogna saper dedicarci le giuste attenzioni e soprattutto ai primi tempi non aspettate che, boom, avrete la fila di persone interessate che vi chiederanno perché non è così, perché all'inizio le persone vi seguiranno perché vorranno vedere effettivamente cosa fate e se siete coerenti poi a lungo termine con quello che dite quindi all'inizio vi è un lavoro di semina io lo dico da quasi tre anni ormai noi facciamo il lavoro dei contadini un networker fa il lavoro del contadino mette tanti semini, semina per poi un giorno raccogliere quei frutti quindi non abbiate fretta lavorate anche solo due ore al giorno adesso stoppo qui e faccio un altro video sui primi passi proprio quali sono le azioni da fare inizialmente lavorate anche due ore al giorno perché quello che vedo io è che le persone che si lamentano che non stanno vedendo risultati sono poi le persone che non ci dedicano neanche due ore al giorno allora un lavoro che non vi occupa neanche due ore al giorno non è neanche da chiamarsi lavoro ma hobby e quindi come tale vi ripagherà ma io vi garantisco che se voi vi prendete l'impegno di lavorare due ore al giorno a questo progetto questo progetto vi ripagherà molto più di un lavoro part time ok? allora visto che sei entrato oggi a far parte del team Snap ti auguro un buon lavoro e ci vediamo al prossimo video ciao